Ed eccoci ragazzuoli, finalmente ci siamo di nuovo insieme a Tuberanza su Dragon Ball Z, Budokete e Inkaichi 4 moddato! Ragazzuoli ci siamo, una nuova sfida! Questa volta, ancora una volta, Orange Piccolo! Ancora una volta? Perché quante volte l'hai scelto finalmente? Scusa! Bro, io da quando ho visto Super Hero praticamente uso Orange Piccolo ovunque! Comando ragazzi, lasciate un mi piace adesso ed iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche E noi andremo a cercare anche nuove mod da andare ad utilizzare per nuove sfide, quindi nuovi personaggi E sarebbe anche ora che tu trovassi una mod e non sempre che le trovassi io, per favore! Guarda, tu stai parlando, cioè praticamente con me che con le mod ci vado a braccetto! Sì, vabbò! Abbiamo giocato prima a Xenoverse 2, ma non mi ricordo manco i tasti del mouse Eh, ma io non mi ricordo... Oh! Attenzione! Eh, mannaggia! Attenzione a Peppe Nielo2Gamer che subito invece... Scatta il finger... Ma che cos'è? Ti prego, speriamo che ci daranno la cosa in spagnolo... Dai, dai, su qui... Eh, basta, Giuseppe! Pensavo di fare l'altra! Ma con c'è un po'! Va bene... Va bene che è, Giuseppe! E intanto rilascio il mio potenziale! Eh, ma da dove lo rilasci? Mare di sto matto! Oh bro, se non te la smetti di... Oh bro, se non te la smetti di... Su... 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 Piritudo? Che stava scritto lì! Ah! Ma da dove... Come è preso bene? Ma io però... Perché però quando io faccio lo spezzaguardia tu riesci a pararti? Super kamehameha! Ma sono troppo forte, Burowski! Eh, no, bro, ma io non so fare le cose! Non è che sei troppo forte! Ah, è il massimo poter! Ma mi hai preso lo stesso! Fra, ero parato! Certo che t'ho preso, Giuseppe! TESHFOON! Ma fra, questo è palesemente qualcosa che non doveva andare così! Sei mio! Kamehameha! FINAL! Oh maronna mia! Oh ho ho! Ma guardalo! Come si gasa! Eh bro, io però comunque non capisco... Cioè io sta cosa non la so fare proprio! Cioè non capisco perché tipo quando tu mi meni... Eh, vedi, e mo che hai fatto tu? Scusami eh! Vedi però? Però come si fa? È perché la parata l'ho fatta verso su! Eh vabbò, mo devo buscare per forza! È arrivato il momento della trasformazione in Super Saiyan Blue! Forza! Ok, allora... È arrivato anche per la mia forma, Orange! A volte quando fa così si baga alla grande! Ah, vabbè troppo parato! Giuseppe! Oh, dopo le parate non ne vuoi sapere nulla eh! No bro, io... Allora tu io ho massimo poter! Kamehameha FINAL! Mo sti sposti pali... No, vabbè! Bro, dai! Ma mi ero scansato! Bro, questa è stata un po' rubata, posso... Posso dire... Bro, ti ha distrutto e ti ha tolto due tacche intere di vita! Volevo utilizzarlo Revegeta... Ma che c'è scritto? Mateus Nerd! Ma è il nome di un nostro utente? Eh? Però mi hai visto che è comparso tutto il nome di Revegeta! È un nostro fan! Ma chi ti ha detto bro? Ma come? Ma chi è Mateus Nerd, fra? C'è scritto sotto il nome di Revegeta! Ma chi ti ha detto che è un nostro fan, bro? Ma che ne so io! Ma tu stai tutto... Mi ricordo il nickname, Broski! Bro, tu sei matto, fidati di me! Sono matto? È normale! Se ti sconfiggo... Per te sono matto se ti sconfiggo? Eh, mannaggia! Eh, basta! Ah! Guarda quel mattissimo! C'è la miseriaccia! Bene, bene, bene! Via! Via! Maximo raggio di quello che è e poi non accocchia nulla! Da che ci sono... Eh, ma io mo te l'ho fatta a bassa, però! Eh, ma io mi so parato verso il basso, appunto! Eh, vabbò, bro! Allora... Eh, scusa, ci hai provato! E come ci si para verso il basso? Mentre ti pari premi verso giù! Eh, ma se io ti colpisco da su... Diciamo che... Via! Ok! Qui è arrivato il momento della mia forma orange! Cioè, guarda, ti sto affrontando... Maronna mia, ma che è? Ma? Re delle saiazin! Super bola dell'energia explosiva! Via! Mamma mia, Broski, eh! Non dirmi che la perdi così! Però lo stavo buffando io, cioè... Ma che cosa era quella cosa? Che stava facendo? Camminavi lentamente! Che era? Non lo so, però... Sto prendendo delle sberle e io... Uh, al back proprio! Via! Vai! Super bola dell'energia esplosiva! No, ma dai! Ancora? Sì, però... Però questo mo diventa gigante, lo sapevo! Sono morto! Però, se sei grosso così, ti becco il doppio! Eh, sì, sono più grosso! Non c***o si sa! Mamma mia! Io devo vedere se riesco a... Vabbè, diciamo nel complesso... Granata ligerina! Oh, mi piace! Ma c'ha tutte mosse! Eh, sì, perché è quella che ti passa attraverso! C'ha tutte mosse così lui! Tutte! Eh, guarda, guarda! Guarda che ridicolo! Guarda! Ma usa tutte mosse così! Via! Lanciato via! Eh, pensavo un po' di più via, però! Attacco della velocità! Guarda, guarda, guarda! Eh, ma no! Questo non gli fa niente! Non gli fa nulla! Bro, non ti sento proprio! Ma che fai? Come non mi senti proprio? Questo l'hai sentito? Bro, no! Mamma mia! Dai, broski! Guarda quanto tempo ci sto mettendo per batterti perché tu sei molto più forte di me come personaggio! Eh? Però io sto comunque resistendo! Ti devo fermare, via! Bene! Ma che vuoi fermare? Un maron! Un maron! Via! Via, 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 via! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Busco solamente, per chi non lo conoscesse Ragazzi, Gus è un personaggio Che viene praticamente Cioè, visto in Dragon Ball Super nel manga Negli ultimi capitoli dell'ultimo annetto Direi di andare a combattere al Planet Evening, quindi alla sera più rilassato Così almeno Senti, ma secondo te, in queste schermate di caricamento C'è mai stato qualcuno che è riuscito a sfidare tutte le spade? Bella domanda La risposta sai quale, bro? La risposta è sì, io E sai come facevo? Toglievo il disco dalla Playstation Così che il gioco non caricava più Rimaneva in quella schermata, in loop Ma veramente, ma sei sicuro di questo? Sì, sì Si può fare Eh, vabbè, Giuseppe Ma sai qual è il problema? Che tu sai fare queste mosse E poi però non le sai continuare È vero Eh, ma perché non mi sono mai allenato, capito? Mai allenato Però io credo di avere È una buona possibilità Se mai mi allenassi Di imparare qualcosina Ma qualcosina però Eh, vabbè, mi hai fatto Guarda, talmente forse è nato a prendere i tasti E guarda Non mi pia manco questa Non me la prendeva Eh, mi hai fatto Andiamo, gamba Eh, ma questa me la busco tutta Ma è mattissimo Oh, ma quanto mi ha tolto? 36.000 Monna mi Ma questa si trasforma? Ma come si trasforma? Frascia, certe trasformazioni Ma è fortissimo Neh, vabbò Solo così ti poteva andare bene Ma che vuol dire? Via, 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 via Ma che è? Non è una camia mia questa Wow, ma c'è il moveset Tipo quel colpo è di Vegito proprio Eh, bro, eh, niente Non c'è più la Laura per Via Ricarichiamoci Niente, oh Allora ancora un'altra trasformazione per lui Ma? Eh? Ti piace di Garba? Ti sconfimpera? Comunque sto buscando, eh Non so se è notato Eh, sì, gamma forte Martillo gigante Bah, questa qui è di Broly È palese, sì Sian Berserk Ma non è un Sian lui Ma perché? No, ho sbagliato Sono morto E godo? E godo? Allora, bro L'ultima Ci stai Ok Bro, se c'hai coraggio All'ultima Chi vince questa vince tutto Ti piacerebbe? Va bene Provo la trollata seria Con Monaca No, bro No, però lo faccio Lo faccio No, vabbè Lo faccio Lo faccio Via, andiamo a combattere qua Villaggio Pinguino No No, no È il tuo preferito quello è Sì Mi piace uno dei colori del Villaggio Pinguino È vero, è vero Molto colorato Ci sta? Allora, Broski Momento della fruzz Momento della verità Con Monaca Via Mamma mia Ma questo non combatte Fra Ma Bro Eh Ma che cavolo fa Monaca È vero Io Oh Ma tu parti già con più colpi Ma com'è possibile? È vero perché Sto più skillato Mamma mia Fra questo non si carica No, no, no Mi sei perso stima Perché? Bene, Koto Via Non è vero Perché ti sei spostato poi Oh mamma mia Tu feggia il massimo poter Cioè guarda questo matto Guarda questo matto Ma Bro, ma questo guarda la schermata tua Bene Ma comunque Monaca C'ha uno stile di combattimento Stranissimo Beh, non lo so Infatti Però dovrebbe avere Almeno una chicca particolare Un segreto Qualcosa Che pilafo prescio Bro Ma il modello si stava piegando in due Ma infatti Boom Eh bro Ma no Non devo far più questa cosa Che tanto la vinci tu È inutile Vabbè dai Non c'ho mai le tacche giuste Per fare una Mossa io Rolling smash Ma che è sta cafonata Ma è quella di Kid Bu Ma non lo so Penso di sì No niente bro Io gli scontri da vicino Non li so fare proprio E continuo ancora a venire da vicino Cioè qua Io meno Vedi tu Non subisci Gigant rock throw Boom Bene No non so proprio capace Il problema è che Io su questo gioco Sono totalmente negato Il tuo personaggio È troppo forte Ci provo Great pilaf operation No fra È la seconda volta È la seconda volta Ma io non so Ma perché se ne scende Ma che fanno le combo Madonna mia Bro perché Negli ultimi giorni Stiamo giocando Troppi giochi diversi E poco fa Abbiamo giocato Xenoverse 2 L'ultima volta Che era Naruto Mera Accademia Troppi tasti differenti No guarda che non devi io Guarda Bro Ma tu non ne capisco L'altra sera L'altra sera L'altra sera ero tornato Su Demon Slayer Così giusto per Per fa' una roba No Fra ma io ho preso Ho preso Un Norme No Bro da uno scarsissimo Ma che è questo bro Via 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 Beccalo Ma ci sei parato È il minimo Però almeno Di tasti base Guarda che non va Ora Io ho capito Quante che devo fare Mi devo avvicinare Fra Eh bro Se ti avvicini Io perdo tutto E non me lo dovevi confessare No Bravo Oh mamma Grazie a Dio Eh vabbò Via 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 Guarda guarda Eh ci provo così un po' Devo ridurti il più Oh mamma mia Eh questa me la sorpresa Nel viso proprio Eh ma volevo fare la mossa Quell'altra che ha fatto Prima Ma non me la fa più Oh mano Parato Parato Eh niente non lo so Mai Mai Ma c'ha la voce di Di Buon bambino Ma perché fa questa Perché non fa più Quell'attacco di meteoro Mai Oh ma Eh no Mamma mia E peniello Con monaca Bro Con monaca Ci ho messo tre quarti d'ora Incazzatissimo Non so giocare Ma perché fai così Ma perché te la mi chiamavo Allora ma non so giocare Non so giocare Non riesco a counterare mezza volta Quando ti avvicini No Non riesco a fare combo Ci dobbiamo un minimo allenare Per rendere più la cosa Anche da lato mio Perché sappiamo le cose Troppo basilari Non è che vogliamo fare il competitivo Perché non abbiamo il tempo Purtroppo no Però Dobbiamo imparare almeno A concatenare qualcosina di meglio Però oggi Per peniello Non capisco Non capisco perché Quando subisco quelle combo Non riesco a uscirne Boh Eh si può fare Forse mi finisco Laura In maniera stupida Boh No è una cosa Secondo me di tasti Da capire Ti vedo palesemente contrariato No 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 Ragazzuoli Alla prossima Ciao Ciao